Papa Benedetto arriva sulla G. Bianca all'appuntamento con i fedeli in piazza San Pietro. Cerimonia solenne, tre nuovi santi aggiunti al calendario della Chiesa Cattolica. Decine di migliaia i devoti di Don Guanella, prete sovversivo, lo definì la stampa borghese del suo tempo, fine 800, rivoluzione industriale, solo perché ridava dignità agli esclusi dalla ricchezza e dal potere, ragazzi bisognosi, disabili mentali, emigrati. Tutta la sua vicenda umana e spirituale la possiamo sintetizzare nelle ultime parole che pronunciò sul letto di morte, in carità di Cristo. Alla carità di Cristo hanno improntato la loro vita, dice il Papa, anche gli altri due nuovi santi, Monsignor Conforti, italiano, fondatore dei missionari saveriani, e Suor Bonifacia, spagnola, diede vita a una congregazione che si prendeva cura delle donne operaie. Cerimonia segnata anche da un fuori programma che ha impegnato non poco la gendarmeria vaticana. Un uomo, salito non si sa come sul colonnato del Bernini, ha bruciato un libro dalla copertina verde. Solo alla fine dell'Angelus si è consegnato agli uomini della sicurezza. Si ignorano per ora i motivi del suo gesto. Un uomo, salito non si sa come sul